Gesù, Elena, dove sei? Eh, aspetta un minuto. Cosa ha di così importante questa torre? Figlio di... Rimpiangerà il giorno in cui sei nato! Accidenti. Eccolo lì, ma ci vedo! E' laggiù! Stai per morire, uomo dell'aereo? Vieni fuori, pure! Così. Come in. Lo vedo. No riesco a peccarlo! No, no! No! Oh! Come on! Come on! Come on! Come on! Lo stesso simbolo, ma cosa ha a che fare con la torre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 Non vuole fare male. Ok. Ok, andiamo qua. Sei morto. Accidetti. Proprio in mezzo al gliocchi, on Jane. Proprio in mezzo. 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 E da questa parte! Ok Eccolo lì Com'è? È laggiù Ah 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 No! No! . . . . . . . Quelli non sono spagnoli, sono inglesi. Fletcher, siamo stati alla torre. Spero che potremmo vederci lì. Francis Drake. Wow. Così ce l'avevi fatta. Ma cosa avevi in mente? Lo vedo! No. 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 Sì, sì. Questo doveva essere di Drake Insomma, cosa stavi cercando? Va bene, ha un'aria familiare La nave non è mai salpata Elena! Ehi, eccola lì Guarda qui! Accidenti L'abbiamo colpito Non sarò una cercatrice di tesori come te Ma dubito che troverai il dorado lì dentro Come ti sei cacciato in questo guaio? Cercando di salvarti, in affetti Oh, come sei dolce Tradizionali mattoni d'aria in aria e stucco Malta calcarea E perché ne sai tanto in proposito? Il mio programma, episodio 4, architetti del nuovo mondo Già, basterà uno strattone e verranno via Cosa? No, aspetta! Sei sicura? Fatti da parte, Bodo! C'è Patan, apriamo questa dannata porta! Oh, cavolo! Ehi, Drake È di ragia Dovevo immaginarlo Affascinante documento, eh? Pare che questo Sir Francis facesse il mio stesso lavoro Non darti delle aria, Eddie Sempre pronto ad attaccare, eh? Sai che ti dico? Portami a loro E forse ti lascerò vivere Tutto qui? Questo è l'accordo Aiutarti a morire dopo Oppure morire subito Scelta difficile Ma sai una cosa? Scelgo morire subito Ai, amo! Ascolta bene, verme Mi è stato promesso un tesoro Su questo maledetto sasso E ora I miei uomini muoiono Non possono nemmeno andare a fare pipì Senza una scorta armata E io non ho niente da dargli in cambio Te sto facendo un'offerta equa Aiutami a trovare il tesoro E chi sopravviverà Si prenderà l'oro E la ragazza, ovviamente La ragazza? Oh, e di lei se n'è andata da un pezzo Ormai sarà fuori dall'isola In cerca di aiuto Tai Kuchin Non sei mai stato bravo a bleffare La troverò Fidati È una ragazza che problemi può dare Allora, forza, muoviti Grazie Ehi! Che dannazione! Ok Ottimo lavoro Grazie Ehi, ehi! Bucca pinto! Tieniti Ehi, che calmeretta! Inseguiamoli! Eccoli via, via! Travolcini Vai dove stai andando Arrivano 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 P.G. 22 Arrivano Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ascini, istra! Ascini! 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 Ehi, 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 il burrone! No, 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 no! Oh, merda! Ho detto, il burrone! Tutto bene, dietro? Pensa a guidare! Attento! Sono dietro di noi! Non ci raggiunti! Non ci raggiungo! Ti Sì! Ehi! Buttalo giù! Oh, il burrone! Lo vedo! Oh, Nate! Stai, gas! A tavoletta! Ce l'abbiamo fatta! Non ci credo, ha funzionato! Chi è quel tipo? Solo un vecchio socio! Attenzione! Oh, no! Tieniti! Tieniti! Ok. Afferro la mia mano. Ok. Bene. Tutto a posto? Sì, sto bene. Oh, ma tu stai sanguinando? Sì, capita in queste zone. Andiamocene di qui. Forza! Tonnazione! Cosa? Forza! Andate da qualche parte! Ehi, Eddie! Pensavate veramente di riuscire a scappare da moi? No, no. Stavo solo facendo fare un tour alla signora. Taci! Scommetto che anche tu lavori per loro. Cosa? Pensavate di potermi fregare e di tenere tutto per voi, eh? Bellazione! Questo è pazzo! Eddie! Stai calmo, amico! Beh, la vostra fortuna è finita! E anche la vostra ricerca. Ora... Datemi la mappa. Resisti. Va bene. D'accordo, è presto fatto. Ehi! Non muoverti. Tranquillo, Eddie. Sto solo prendendo la mappa, come hai chiesto. Ho detto ferma. Lo sono. Bene, passa qui. Beh, mi hai appena detto di non muovermi. Sembra che dovrai venire a prendertela. Daicam! Daicam! Via, via! Eccoli lì! Eccoli lì!